Per iscriversi a Perseo Sirio è possibile farlo in diverse maniere. Intanto sul sito istituzionale del fondo c'è la sua modulistica con un modulo di adesione a Perseo Sirio e un pdf editabile, quindi si riempie direttamente dal computer, poi si stampa e si consegna all'ufficio competente del proprio luogo di lavoro. Oppure è possibile rivolgersi ai patronati che fanno capo al centro dei patronati, cioè l'Inca CGL, l'Inas CISL, l'Ital Will oppure le ACLI. È possibile rivolgersi anche al proprio delegato sindagale per avere le informazioni necessarie oppure direttamente al fondo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!